La moglie del premier canadese è risultata positiva al coronavirus e ora si trova in auto-isolamento insieme al marito. Sophie Gregoire Trudeau si è sottoposta al test del Covid-19. Il test è risultato positivo, ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro canadese in un comunicato. La coppia resterà in isolamento per i prossimi 14 giorni. Trudeau in buona salute, senza sintomi e lavorerà da casa. Sophie ha qualche sintomo influenzale mostrato al rientro da un viaggio in Gran Bretagna. Trudeau, su consiglio medico, non sarà sottoposto al test del coronavirus e rivolgerà un discorso alla nazione sabato. Il Canada, che ha registrato finora 150 casi positivi e un decesso per il virus per contenere l'epidemia, ha cancellato gli eventi sportivi e alcuni spettacoli.